adesso parleremo di un'idea che mi è venuta in mente una sorta di loot box per chi non sapesse cosa vuol dire loot box io non ne ho la più pallida idea perché non conosco l'inglese ma black box creato apposta per voi dalla mente malsana di Gianluca saranno come il mio compleanno abbiamo creato degli mystery box questa volta è un po' diverso è un po' diverso perché i quantitativi dei prodotti all'interno dei box sono prestabiliti quindi noi creeremo un numero finito di box saranno solo quelli non è che ne creeremo altri sono solo quelli e all'interno di questi box inseriremo dei quantitativi prestabiliti ovvero abbiamo mettiamo 30 copie della variant di AOT del 34 per dire verranno inserite in 30 pacchi diversi abbiamo una copia di Demon Slayer numero 1 variant con sola copertina verrà inserita in un solo pacco quindi verrà pubblicata una lista faremo il nostro conteggio che in realtà è già mezzo fatto devo solo renderlo un po' più carino e soprattutto renderlo digitale per poterlo pubblicare e niente faremo praticamente metteremo all'interno di questo black box tutte le variant che vi siete persi allora saranno solo variant non c'è nient'altro solo variant adesso dobbiamo stabilirne il prezzo non le volevo fare troppo grandi allora innanzitutto le variant verranno messe a prezzo di copertina quindi anche il Demon Slayer 1 che su internet sta infiniti migliori fantamiliardi di euro di euros che è naturale lo metteremo comunque a 4,50 che altro abbiamo? andiamo a vedere che cosa mettiamo che cosa vi siete persi innanzitutto quello che voglio sottolineare è anche una bellissima idea regalo perché? proprio perché sono variant allora molte sono ancora recuperabili questo è vero ma a fine esaurimento scorte e soprattutto è tipo cat e vinci potrai aprire e trovare anche la mina assoluta i roppioni sulle variant non sono un problema che tanto si vendono facile e andiamo subito a vedere quali saranno i titoli che metteremo per la maggior parte sto mirando a mettere i numeri 1 però abbiamo anche qualche variant di un certo peso queste ce le ho qui per puro caso perché in realtà ci dovrei fare un video metteremo anche delle variant di numeri differenti che abbiamo visto che sono aumentate di prezzo e quindi vogliamo mettervele a prezzo di copertina qualche piccola chicchietta c'è anche una fashion c'è anche l'ultima fashion di Jujutsu che mi ero stipato per i momenti i box quello non lo facciamo nel senso quello lì sarà contenuto all'interno del black box proprio per questo ci siamo stipati una serie di variant anche anche a discapito di venderle velocemente questo qua sono le ultime Tokyo Revenger che abbiamo anche anche a discapito della vendita facile proprio perché ci stiamo preparando a questo evento alcune cose mi sono conservate tipo Jujutsu Fashion me lo sono conservato mi sono conservato un steelbox di Naruto mi sono conservato un Demon Slayer 1 variant quindi in realtà ci sono poche e i box sono tanti quindi andiamo a vedere che cosa possiamo trovare all'interno allora Assassin Creed la versione variant della nuova opera quindi numeri 1 perché voglio anche mettere un po' di numeri 1 perché vi ricordo che miro da buon frumettaro a farvi anche leggere anche leggere voglio quella variant di Tokyo e sarà all'interno sarà all'interno ragazzi non vi preoccupate allora vi daremo quindi i quantitativi i quantitativi dei prodotti che metteremo questo perché perché così evitiamo i bimbi Nutella i bimbi Nutella che con la mystery box della scorsa volta non ho capito quale tipo di parassita devi averle mangiato il cervello io non so neanche come vengono educati questi ragazzini perché pensavano che in ogni mystery box ci fosse all'interno la numero 1 variant di Demon Slayer e scusate e che cazzo scusami che cazzo di mystery box è allora cioè io potrei capire la gente che cosa gli passa per il cervello è normale che non è una in ogni box testa di birillo ma non è che c'è un genio c'è scritto mystery comunque vabbè tolto questo il è normale che ti può capitare buona come ti può capitare cattiva è esattamente come i grattevinci amici miei quindi ve lo dico noi garantiremo le quantità arrivi ma sono completamente a caso nel senso non è che anche perché non è che me posso sbilanciare più di tanto più che altro è per andarvi a far recuperare non neanche a farvi recuperare in realtà l'avevo pensato a più come idea regalo da fare nel senso avete un amico che legge manga e gli regalate una box chiusa perché tanto penso che sono indeciso penso che la farò sulla trentina d'euro 30-35 euro quindi comunque online avrebbe le spedizioni gratuite e comunque voglio tenermi basso perché voglio che sia comunque una cosa che si può regalare non voglio essere troppo esoso e ricordo che tutto il contenuto sarà pari all'importo quindi comunque di base è come se tu avessi comprato quel fumetto a quel prezzo base anche se è una variante caso mai esaurita allora quindi metteremo Assassin's Creed 1 cioè ci potrà essere ci sarà Assassin's Creed 1 Variant Edition e poi vi dirò i quantitativi ci sarà Black Clover 1 la Discovery a 1 euro a 1 euro quindi la pagherete 1 euro non so se tanta roba quindi chi becca la Black Clover 1 comunque si becca un sacco di fumetti che è un sacco di euro Darwin's Game Variant Eden 0 1 Variant con Shikishi Frieren 1 Variant Marshall 1 Variant che c'ho qua sono ancora recuperabili però il discorso è questo a parte che bisogna vedere fino a che punto ma poi alcune di queste opere sono veramente veramente belle cioè nel senso essendo numeri 1 metti che non l'hai presa e che dice ah vabbè ma non era interessato comunque è una bella lettura e secondo me è ottimale e se già l'hai presa resta comunque un buon incremento in futuro qualora volessi rivenderlo che comunque sono tutte quante Variant allora continuiamo con la nostra lettura delle altre cose che verranno contenute all'interno ah vi ricordo comunque a tutti che per restare collegati e sapere sempre quando usciranno le prevendie quando usciranno i volumi basta mandare un Whatsapp al 392 9253 609 che è il mio numero in questo modo vi iscriverete alla newsletter e restete sempre informati su queste cose anche che ragazzi sottilature limitate nel senso che io pochi ne posso fare ne posso fare infiniti quindi adesso vedremo quanti pack riusciremo a fare comunque Marshall 1 tanta roba scusate sto morendo devo andare a mangiare Undead Unluck che è recente però comunque è la grande Variant la Variant quella argentata con anche l'adesivo il trasferello poi AUT33 Sound Edition AUT34 intanto io sto tipo vomitando AUT34 mi sa che non ci arrivo alla fine di questa live morirò prima di dirvi tutti quanti i titoli che voglio mettere nel black box allora non c'è il fisico neanche per fare lo streamer sono troppo vecchi AUT34 Sound AUT34 la Variant attenzione attenzione non sono un po' indeciso se se mette la Variant oppure quella che oggettivamente è già sold out che è quella con le short stories perché quella con le short stories al momento è sold out costa anche un po' di meno che costa 7,90 allora sapete che vi dico più che mettere un 14,90 che poi limiterebbe gli altri fumetti presenti nel black box stavo pensando di inserire quella da 7,90 che secondo me varrà molto di più in futuro comunque continuiamo Tower of God Variant di Babylacqua in dedica di su Torre dei Maghi ragazzi di questa me ne sono conservate tante perché aspettavo un grande evento per crearla infatti in realtà penso che sia stato l'unico negozio che ha richiesto un quantitativo di copie firmate di questa così alto perché in realtà non la volevo praticamente vendere io la volevo più che altro regalare e adesso la metteremo adesso la metteremo nei nostri black box aspettavo questo momento era un sacco era un sacco poi solo leveling 1 Variant prima edizione ovviamente e 3.6.1 Variant che mi sono rimaste pochissime infatti non so quante riuscivo a darne e Tokyo Revenger che vi ho fatto vedere Variant poi metteremo i quanti arrivi mi ne ho metto un attimo a tavolino per cercare di chiedere bene gli importi economici poi passiamo a un po' di bombettine un pochettino di bombettine di numeri avanzati allora a parte vabbè Silver Family 2 Variant che a breve esce più o meno quante Variant ogni box in base al prezzo nel senso saranno solo Variant non troverete niente che non sia Variant però a base al prezzo nel senso se la faccio da 35 euro troverete 35 euro di fumetti a prezzo di copertina quindi se ti capita il come si chiama la Steelbox di Naruto purtroppo sono meno fumetti perché lei costa proprio di più anche di copertina semplicemente quello però se ti capita Black Clover a Neuro c'è praticamente un fumetto in più perché quello costa Neuro poi no vi vorrei dire una cosa mi sono dimenticato mannaccio all'Alzheimer Mario Accademia 14 Spiver Family 2 e gli ho detti metteremo anche che non sono propriamente Variant però alcuni di voi li hanno bugate metteremo anche alcune finezze tipo i poster ci saranno poster e segnalibri in ogni box a prescindere dalle serie che troverete dentro metteremo anche questi piccoli cadeau questi piccoli regali di queste cose potrebbe esserci all'interno anche qualche box di Meated Edition qualche cosa strana che ne so il Non Tormentarmi Nagatoro 1 Variant ci saranno comunque delle Variant solo Variant ci sarà nient'altro se non Variant oppure potreste però ne metto poche comunque poi ci sarà la lista potreste beccare anche qualcosa tipo Blue Lock 2 con i cartellini oppure un Black Clover con cartolina che ridendo e scherzando Blue Lock i primi tre numeri sono sold out di prima edizione ebbene sì ebbene sì grazie a Stefanix che ti piace l'idea è una cosa che avevo pensato il problema è che ora la devo cercare di convertire economicamente in una cosa fattibile è tosta metteremo anche Dragon Ball 14 con lo Shikishi perché molti stessati sono soppersi proprio perché non hanno capito che usciva questo albo e comunque le cose con gli Shikishi sono sempre delle bombe solo leveling sì 3 se ve l'ho detto Dragon Ball 14 ve l'ho detto le cose con i segnalibri tipo che ne so un Tank con il segnalibro speciale un Blue Lock con i cartellini comunque è tutto quello che ipoteticamente vi siete persi durante l'anno noi qualche copia ce la siamo sempre conservata e niente abbiamo deciso di vendere a prezzo di copertina in questo in questo periodo in questo periodo quindi aspettatevi inizierà il 26 Black Friday noi metteremo le prendite a breve il tempo che riesco a fare un conteggio che abbia un senso e niente quindi fondamentalmente io vi auguro buonanotte e buone botte e niente seguiteci su YouTube fate quello che volete fate quello che volete ragazzi vi ricordo i box so a caso prima che mi mandate le mail con mi ma a me mi è uscito che cazzo mi è uscito Eden 01 Variant io volevo la fashion e anche io volevo la fashion eppure la mia la sto dando quindi signori addio ci vediamo per il prossimo video ciao ragazzi